Sì, abbiamo mantenuto l'avvio della mobilitazione anche se la Premier ha disdetto l'ultimo minuto ieri la conferenza stampa di fine anno. Lo facciamo perché è l'inizio di una mobilitazione, non contro qualcuno ma per la dignità della nostra professione. Noi stiamo assistendo ad una serie di provvedimenti che vogliono limitare il perimetro dell'articolo 21 della Costituzione ma soprattutto il perimetro della libertà di informazione. L'emendamento Costa non ci proibirà di fare il nostro mestiere, viva Dio lo faremo comunque, lo faremo con più difficoltà ma lo faremo comunque. L'emendamento Costa è l'ultimo vagone di un treno che sta cercando di impedire ai cittadini di essere correttamente informati.